Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come, la concorrente del GF VIP è crollata in minaccia di andarsene prima della nuova diretta. Che cosa sta accadendo dentro la casa? I giorni successivi alla puntata in diretta del GF VIP sono sempre ricchi di tensione e crolli emotivi. Stavolta è toccato a una vippona grande protagonista all'interno della casa di Cinecittà, scopriamo di chi si tratta che cosa sta accadendo. Stavolta Alfonso Signorini è voluto andare fino in fondo ed ha indagato in modo certosino alcune dinamiche e rapporti all'interno del gruppo. Quando si è arrivati al momento delle nomination i vipponi hanno riservato una grandissima sorpresa. L'esito infatti delle votazioni segrete e palesi ha messo in guerra per l'eliminazione Pamela Prati contro Giorgio Ciupilan, Carolina Marconi e Patrizia Rossetti. Pamela Prati è risultata la meno votata dal pubblico nel televoto precedente, mentre gli altri tre sono i più votati della casa. A sorpresa Patrizia Rossetti e Giorgio Ciupilan si trovano al televoto nonostante siano due tra i più amati concorrenti del grande fratello Bip. Poi c'è Carolina Marconi e per lei il discorso è molto diverso. Scopriamo insieme il crollo emotivo della Marconi nelle ultime ore e che cosa sta decidendo di fare. GF Vip. Il faccia a faccia sfoga in un crollo emotivo. Carolina Marconi è stata incalzata direttamente da Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì. Il conduttore non si è fatto scrupoli di ricordarle che si trova all'interno della casa del grande fratello dove tensioni, forti scontri e litigi sopra le righe sono quasi all'ordine del giorno. Forse questo faccia a faccia direttamente con il conduttore ha toccato nel vivo Carolina, che nelle ore successive ha avuto un crollo emotivo molto pesante. La Vipona ha già minacciato più volte di andarsene e in queste ore starebbe prendendo la sua decisione, abbandona la casa stasera. Lo farà davvero? Qualcuno in casa sta cercando di farle cambiare idea, ma certamente Carolina si è creata un po' di terra bruciata attorno a sé. I suoi ultimi litigi con Giaele Dedona, Patrizia Rossetti e Pamela Prati hanno creato parecchio scompiglio in casa e le reazioni del pubblico non sono state di poco conto. Nel caso in cui la GFina decidesse di rimanere in casa, purtroppo trovandosi al televoto è a forte rischio di eliminazione. Moltissimi spettatori del reality infatti e non hanno gradito le ultime vicende in casa di cui si è resa protagonista e potrebbero punirla con l'eliminazione. I sondaggi non la danno vincente per il momento ma anche Pamela rischia grosso. Cosa deciderà di fare alla fine Carolina? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.